Abbiamo perso il conto di quanti telespettatori di Rossini TV, amanti del basket, amanti della VL, ci hanno chiesto quando tornava insieme a Canestro. Ora una risposta l'abbiamo, insieme a Canestro sta per tornare. Giovedì alle 21.20 si riparte. Si riparte con la terza stagione, certo che a fare tre stagioni mi sembra che neanche tantissime serie di Netflix raggiungano questo traguardo. In effetti siamo stati bombardati, partiamo giovedì 20 ottobre, ma qui il campionato è cominciato già da tre settimane e tantissimi affissionados e tantissimi telespettatori continuavano a messaggiarmi. Ma quando partite? Ecco, finalmente partiamo, non vediamo l'ora e domani debutiamo in diretta, mi raccomando, alle 21.20 sul canale 80. Non soltanto, ma ci potete seguire anche in streaming sulla nostra pagina Facebook e soprattutto continuate a scaricare l'app perché poi potrete vedere tutto il palinsesto di Rossini TV in diretta dal vostro smartphone. Questo seguito testimonia il successo di questa trasmissione. Qual è il segreto del successo secondo Marco Cadeddu? Ma secondo il mio modesto parere, ma d'altronde sono anche il presentatore, un po' l'ideatore di questa trasmissione, quello non soltanto di parlare un'ora di pallacanestro, un'ora dei fatti in diretta, di quanto è successo nella settimana precedente e quanto succederà nella settimana successiva, ma anche quello di raccontare delle storie, di presentare i giocatori, di presentare i personaggi, di far conoscere ai nostri telespettatori il loro passato, le loro ambizioni, i loro progetti, quindi di presentare il mondo VL a 360 gradi. Secondo me questo è stato molto apprezzato e anche tantissimi telespettatori e tante telespettatrici me lo hanno proprio fatto sapere, me lo hanno comunicato quanto apprezzassero queste nostre storie. E dunque stessa data il giovedì, stesso orario alle 21.20, stessa formula quella della diretta e come sempre tanti protagonisti attesi. Sì, tanti protagonisti attesi che non saranno gli stessi delle scorse stagioni, anche perché la VL ha cambiato tantissime persone nel roster, quindi dall'anno scorso quelli che già conoscete, più vi racconterò le storie di tutti i nuovi personaggi che calcheranno il parquet della Vitifrigo e di tutti i campi della Lega Serie A e ovviamente tanti altri personaggi legati sia al mondo della VL sia alla società della VL, e chiaramente con tanti opinionisti, colleghi giornalisti e illustri opinionisti che si siederanno nel nostro salottino. Continua invece l'interazione con il pubblico che è stato il valore aggiunto della seconda stagione, siamo in diretta, quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare attivamente mandandoci messaggi Whatsapp o scrivendo commenti su Facebook, il numero di Whatsapp è quello che vedete in sovraimpressione, 370-366-7210, ci sarà il nostro Giovanni Zidda che leggerà tutti i vostri messaggi e le vostre domande che verranno ovviamente sottoposte agli ospiti.